ma buongiorno buongiorno non cazzo no ma sempre in cazzo buona domenica bel cari fermate le mani se non te lo do un cazzotto subito così si eh tocca apparecchiare tocca mangiare tocca beve tocca pisciare tocca cacà tocca la leva la maglia io la levo io fermate voleva la maglia o no io la levo da me non dovrebbe urla chiamano fa no perché perché urla fa 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 ma vaffanculo la eccola la zianna guarda quanto comanda ma guardate che cosa ho trovato su questa su questi fiori giancarlo dieci anni da bevagna ha portato questa coccina grazie mille giancarlo la zianna sarà super contento guardate bella che spettacolo queste sono cose bellissime la pia eh oh il vino ma dove è sotto da bicicletta dove è oh di lato di lato di lato no ma perché fai così perché sei scemo che ti vede che stai ripiato mamma mia che raviolo oggi eh chi vuole venire a mangiare qua fate swipe guardate che roba guardate che roba una maglia sta pieno ti mani il ravioletto come tagliatella che balla incredibile ma non devi essere disidratato no oh non bastano tre telecamere per i piatti lago trasimeno che spettacolo ah il mezzuolo è capace fatti la padalù fatti la padalù ali tu che ne pensi buongiorno coccodrilli buongiorno 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 basta che mi rompi i coglioni oh oggi è diverso è lunedì è un giorno diverso sono appena rientrato chissà cosa ci sarà di buono da oggi ragazzi inizia la dieta perché sennò qua lievitiamo e basta quindi qui è difficile ma ce la farò te fa un pennellino te fa un pennellino te fa un pennellino te fa un pennellino pennello io fa un pennellino pennello io sono la televisione adesso guardate su che canale è su cielo indovinate perché perché la sera lui prima ranna dormì guarda cielo guarda i filmini quelli in pozzozzi a che guarda la sera guarda cielo guarda c'è nino guarda cielo la sera eh vecchio cincillato smettale rompo amico io mannaggia cristo attenzione incredibile 40 gradi ma sta nevicando la sta facendo tantissimo sono aperti tutti gli impianti scistici schipassi schilift seggiovie ovovie funivie incredibili schilift è tutto aperto quindi una doppia nevicata con tripla nevicata con quadrupla nevicata super nevicata con 50 grammi di pasta ma che dieta è smettela rompi co***o che dieta è no 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 volete rivivere tutte le vicende di quando siamo stati in toscana con i nonni e tutta la troupe fate swipe iscrivetevi al mio canale youtube e rivedete tutto 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 anche i video vecchio coccodrilli ora vi taggo un ragazzo che ho conosciuto un po' di tempo fa a dubai e veramente sta facendo un buonissimo lavoro sta cercando i collaboratori quindi scrivetegli in dm chi è stato chi è stato fa a marate il canico risponde al fatto fa fa il potere del fatto è proprio fa è il limitato guardate fa 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 voglio tutti audio che dite fa oggi è il fa dei è andato via perché è troppo potere del fa hai visto che il papa si rimette l'hai visto tu no? l'hai visto? no che ti ho detto? va via! eh che si ha detto? che lui non si rimette bravo ma aiuti ma si rimette c'è scritto si si è scritto ti dà un po' che si rimette beh guardaci giusta eh guarda fa il codice no pesante tu che ne pensi? anche politica dittoria ah io non ci voglio che ne pensi? che sono struttura ma si rimette eh vai via! sta a resta fanno i conclari e non lo fa in là ma porno basta smettete ma si rimette se è ben meglio le fanno in altre eh se si rimette che succede? le fanno in altre perchè? eh perchè c'è il fatto è in altre una posta Te lo spiego io, perché praticamente vedi, ah, vedi, si stendono, si fanno un comblotto, si, un comblotto, va via, va via, va via, va via, va via, ma l'han sentito, è vero, gli era cascata una forchetta a pranzo, si è sporcata e la lanciata, si teneva più, si scherza, ma quanto tempo fa che l'avevo detto che si dimetteva, va via, c'ho delle spie, sono anche tante altre chicche, ma ancora, un po' su di niente, però questa, siamo quasi chiappato del Papa, che macchina prendiamo? La Punto, la bestia, la Punto Drillo, no, Grillo, ecco la Punto Drillo, vai, ma le chiama le prese? No, si accende col vocale, gli ho montato un impianto, se io gli dico apri, lui si apre, Guarda eh, apri, si è aperto, vedi, vedi, si è aperta, incredibile, ma vero, guardo come si accende, così, oh, si accende così, o no? Mettono alla scocciata, scemo, ah, qua mi hai rotto il quadro, dopo che facciamo, ce la mettiamo? Eh certo, andiamo su un muscello, ah certo, un costante, testa di cazzo nucleare, c'è il muro, un'elvenimento, Ma no, al salto, no? Ma che fai, che muro? Dov'è? Non ha già cresci la strada, ma io da sali con te? Eh certo Testa di cazzo, quando si è sgazzati, ma brucia la pressione e consuma le gomme, stronzo, ah, è da camminare per bene, se non scendo che guida da te Eccoci qua, siamo tornati, finalmente, oggi sta pieno di fatica, però mai mollare ragazzi, mi raccomando, vai su noi, che fanno oggi? Era uno scherzo, va via dai, no, non è vero, grande Simo Andrea ha il controllo Eh sì, sì Se fa così? Eh perché non ti stai fermo, oddio Ti fa male così? Adesso facciamo subito qualcosa Tocca tagliarlo Ma qui sotto ti fa male? Sta fermo, mannaggia Eh? Ti fa male o no di lì? Ma te ne mi fa male niente L'uccello ti fa male? No E che ci fai? Eh? Capisci E dopo? Basta Ah beh Un po' di cremina anche di qui tocca a me Eh sta fermo, mannaggia Eh? Ah No, vabbè, però no, eh, l'educazione è importante Ma allora, la stai fermo Guarda che bel macchinario adesso, eh Toc Toc Senti? Andrea, controlli anche la poccina Mannaggia Eh? Controlli la poccina Vedi, vedi come sei fatto tu Ma fatti controllare la poccina Ma qualcosa per lui, mi si può fare? E' calmante Controlli La poccina, un attimo Non mi scontro la mazza Controlla, fattela controllare La stai fermo Eh, è nurle, fai tutto il buonino Ah Eh, tuo capo Fai tutto il bravino Tu guarda che adesso c'è una manzuna Ahah Fammi tutta una poccina Questa mia che la do brutale Metta Ti ho scontro niente Ho fatto il forcone Fai vedere Mamma mia, oh Ma sto peletto Sì, ma te l'ha Sto peletto Mannaggia Eh Ah Ah Ora che ti controllano tutti anche lì C'è il VAR dentro la macchina, eh Ok? C'è anche il sandalo Il sandalo del Ludovico da Casoria Beh, ma affatto Nooo Quello do io Nooo Ma perché? Perché trippetta che hai fatto? Eh Il negro fatto da mu E che c'è dentro? Eh? E che c'è? Quelle cazzo?